In adempiente, così dai banchi dell'opposizione, Massimo Trespidi della Civica Barbieri Liberi ha definito il presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli. L'attacco è stato sferrato durante la discussione ieri in Consiglio Comunale sul bilancio consolidato del Comune di Piacenza, cioè la situazione economica finanziaria degli enti e delle società partecipate da Palazzo Mercanti, comprese in primis Piacenza Expo con perdite di 445 mila euro nel 2022 e l'ASP Città di Piacenza in negativo di 762 mila euro. Trespidi ha criticato la gestione di Cavalli. La società Piacenza Expo non ha provveduto alla ripartizione delle deleghe tra i vari membri del Consiglio stesso. Sono passati cinque mesi. Ma il Comune, che è socio di maggioranza in Piacenza Expo, sta dicendo qualcosa a Cavalli o Cavalli fa quello che vuole? Perché sono passati cinque mesi e le deleghe non sono state distribuite. I due rappresentanti nel CDA sono delle belle statuine. Consiglio di amministrazione che, lo ricordiamo, il centrodestra aveva abolito preferendo la figura dell'amministratore unico e la giunta Tarasconi aveva poi ripristinato. L'Assemblea dei Soci aveva scelto di nominare Erika Colla ed Elisabetta Montessissa nel CDA al fianco di Cavalli. Anche Patrizia Barbieri, ex sindaco e capogruppo della civica di centrodestra, ha esortato a valorizzare le due componenti del CDA. Persone competenti ha detto che si vorrebbe vedere all'opera per dare un contenuto concreto al loro riconoscimento nel Consiglio di Piacenza Expo. Della stessa opinione è stato Filiberto Puzzu dei Liberali. Il CDA ha affrontato la questione come puntualizzato dal vice sindaco Marco Perini. Il CDA concorda pertanto all'unanimità che sia necessario e opportuno nelle prossime riunioni valorizzare le singole competenze, anche non solo esclusivamente tramite deleghe, in modo da dare un assetto di governance più razionale. E dalla maggioranza il capogruppo del PD Andrea Fossati ha difeso l'operato di Cavalli perché il polo di Lemose crea indotto e lo fa, ha affermato il DEM con un'ottima organizzazione. Anche di questo si è dunque parlato nel Consiglio Comunale di ieri pomeriggio, che ha visto inoltre l'approvazione di una risoluzione congiunta per chiedere l'inclusione di Piacenza nel Festival Verdi, ma anche un ampio dibattito sull'annullamento all'ultimo minuto domenica della gara nazionale di handbike, disciplina per atleti disabili, con partenza sul Faxal a causa della mancanza di volontari. Il centrodestra ha avanzato la richiesta di dimissioni dell'assessore da dati.